se dovessimo cercare di descrivere com'è Dio sarebbe un po' difficile o talvolta addirittura scoraggiante perché di come è Dio nella sua natura sappiamo poco ma coloro che hanno scritto la Bibbia hanno riflettuto sul mistero di Dio e più volte lo hanno descritto in un modo particolare esodo 34 6 l'eterno l'eterno Dio misericordioso e pietoso lento all'ira ricco in benignità e fedeltà qualche sabato fa ci siamo concentrati sulla prima qualità di Dio il misericordioso vi ricordate qual era la parola Rahum che è la prima qualità di Dio e oggi vedremo la seconda il pietoso o il pieno di grazia la seconda parola utilizzata per descrivere quindi Dio in ebraico è kanun questa parola ha la sua radice in ken che significa grazia o favore questo è il significato con cui più spesso viene tradotta nella Bibbia e studiando questa parola e il suo modo del come viene utilizzata all'interno della Bibbia scopriamo una storia affascinante ad esempio nel salmo 45 al versetto 2 leggiamo tu sei il più bello di tutti i figli degli uomini sulle tue labbra è stata sparsa la grazia perciò Dio ti ha benedetto in eterno in questo caso il salmista usa la parola ken le tue labbra sono state sparse di ken di grazia e in questo caso significa che il soggetto sa usare delle belle parole delle parole delle parole che portano piacere in questo caso quindi troviamo questo grazia col significato di delizioso di favorevole oppure in proverbi capitolo 1 versetto 9 leggiamo 8 e 9 ascolta figlio mio l'ammaestramento di tuo padre non trascurare l'insegnamento di tua madre perché saranno un ornamento di grazia al tuo capo e monili al tuo collo in questo caso ancora una volta viene utilizzata la parola ken un ornamento di grazia qualcosa di che attira attenzione e favore per questo motivo ken è una parola che viene spesso utilizzata per descrivere un dono che viene fatto con piacere con favore e in questi casi troviamo la parola ken tradotta con grazia abbiamo altri esempi in cui vediamo l'utilizzo di questa parola per esempio in ester capitolo 8 al versetto 3 ester parlò ancora così davanti al re cadde sui piedi e lo supplicò con lacrime agli occhi di impedire il malvagio complotto di aman la gaggita e il piano che egli aveva ideato contro i giudei in questo caso vediamo un nuovo modo di tradurre questa parola ken perché nel versetto qui ester cade sui piedi e gli fece una richiesta di ken che qui viene tradotta come lo supplicò con lacrime in questo caso quindi ester si rivolge al re di persia per chiedere che lei e il suo popolo siano risparmiate dalla morte che gli attendeva e la donna chiama questa richiesta una richiesta di ken una supplica e poiché il re si compiace di ester la favorisce ed esaudisce il suo desiderio quindi ken può essere utilizzato per comunicare un atto generoso o un atto in favore di qualcuno e la cosa interessante che si denota è che la maggior parte delle volte in cui troviamo l'utilizzo di questa parola all'interno della storia biblica è una richiesta che viene fatta da persone che sono immeritevoli o che vengono percepiti come tali e quindi i traduttori spesso utilizzano parole come misericordia o supplica per ken e kanun in sostanza sarebbe come fare un regalo di grazia che è motivato dall'essere favorevoli nei confronti di chi lo fa ma qual è il gesto più estremo o l'atto più estremo di grazia che è possibile mostrare in favore di qualcuno che in realtà invece di ricevere ciò che merita riceve un dono generoso leggiamo ancora un'altra storia andiamo in genesi capitolo 33 versetto 8 Esau disse che vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato e Giacobbe rispose è per trovare grazia agli occhi del mio signore anche in questa storia Giacobbe aveva ingannato suo fratello era scappato sotto consiglio della madre e dopo vent'anni vuole tornare indietro per provare a rimettere le cose in ordine per provare a sistemare le cose e così si presenta davanti Esau dicendo che io possa trovare ken ai tuoi occhi che io possa trovare grazia, supplica, misericordia ai tuoi occhi quello che sta chiedendo Giacobbe non è qualcosa di giusto non è qualcosa che gli spetta ma è un favore o un favore immeritato e per questo chiede di trovare ken perché come abbiamo detto è la parola che viene utilizzata per indicare qualcosa che viene dato in maniera immeritata non sta chiedendo qualcosa che gli spetta sta chiedendo qualcosa che riconosce essere immeritato e sorprendentemente Esau glielo concede sceglie di avere favore verso il fratello Giacobbe e dimostrargli una grazia che non merita e questa esperienza molto simile Giacobbe l'aveva fatta poco prima quando aveva lottato contro Dio aveva ricevuto lo stesso trattamento ora utilizzare il ken la grazia, la misericordia richiede uno spirito generoso che a volte le persone hanno come in questo caso nell'elenco delle storie che abbiamo letto ma nella Bibbia colui che dimostra Ken più di chiunque altro è Dio ed è per questo motivo che si riferisce a se stesso come Canun il pieno di grazia in Esodo al capitolo 33 al versetto 16 come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi non è forse perché tu vieni con noi così noi saremo distinti io e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra vi ricordate che momento è questo? non è un momento felice per il popolo di Israele perché Dio aveva appena salvato gli israeliti dalla schiavitù dell'Egitto e loro lo avevano appena tradito dando la loro fedeltà a un vitello d'oro come loro nuovo Dio e questo tradimento era un tradimento per cui meritavano la morte ma Mosè interviene e intercede per il suo popolo e chiede a Dio di considerare di fare un dono che non meritano e Dio dice di sé mostrando in grande atto di grazia il perdono e la promessa di stare con questo popolo e qui Mosè si chiede come faremo a conoscere che abbiamo trovato questa grazia ai tuoi occhi perché tu sei con noi e perché con la tua compagnia noi ci distingueremo da tutti gli altri popoli e questo tratto del carattere di Dio è così affidabile così certo che più di 40 volte nel libro dei salmi le persone invocano fanno appello fanno riferimento alla grazia di Dio situazioni in cui sono malati situazioni in cui sono in pericolo o quando gli israeliti si trovano per varie ragioni in esilio e i profeti biblici come Isaia hanno guardato alla grazia di Dio nel passato e hanno dichiarato con coraggio che un giorno Dio mostrerà ancora una volta Ken al suo popolo liberando loro e tutta la creazione dalla morte e dalla rovina Isaia capitolo 30 versetti 18 e 19 perciò l'eterno aspetterà per farvi grazia poiché egli sarà esaltato per aver avuto compassione di voi perché l'eterno è un Dio di giustizia beati tutti quelli che sperano in lui poiché il popolo abiterà in Sion a Gerusalemme e tu non piangerai più egli ti farà certamente grazia udendo la voce del tuo grido appena udrà egli ti risponderà questa è la certezza con cui Isaia parla della grazia di Dio ricordando che non è una richiesta che il popolo merita che non è una richiesta che viene fatta perché è dovuta ma è un dono del favore di Dio verso un popolo che per quanto non lo merita è l'oggetto dell'amore di Dio e quando andiamo a guardare nel Nuovo Testamento invece come descrivono questi autori la grazia di Dio ad esempio Giovanni capitolo 1 versetto 14 questo è uno dei versetti che dovrebbero essere incisi nella nostra memoria Giovanni 1 14 e la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come quella dell'unigenito preceduto dal padre piena di grazia e di verità questo pieno di grazia indica un dono immeritato che è stato dato all'umanità e la parola greca che viene utilizzata in questo caso è karis che significa dono grazioso o dono pieno di grazia ed è l'equivalente della parola ken che abbiamo trovato nell'antico testamento ad esempio quando ci viene presentato Gesù ci viene esplicitamente detto che è la gloriosa è il glorioso dono di grazia di Dio dato all'umanità inviato a un mondo pieno di persone intrappolate nelle tenebre che adesso hanno l'opportunità di trovare nuovamente la propria luce in Efesini capitolo 2 versetto 8 voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi ma è il dono di Dio e ancora una volta troviamo questa parola carissa che fa da collante secondo l'apostolo Paolo noi siamo dei morti viventi perché siamo vivi ma persi nel peccato siamo come morti ma Dio ha consegnato all'umanità un dono non lasciandoci alle conseguenze distruttive delle nostre decisioni egoistiche ma ricco di misericordia e con la sua grazia ci ha salvati sta parlando di come la vita la morte e la resurrezione di Gesù siano offerte a noi come un generoso dono di grazia e di vita che è più potente della morte e come per ogni dono cosa bisogna fare per poterlo ottenere riceverlo e accettarlo il Ken la grazia immeritata che viene concessa agli uomini nell'Antico Testamento e la Caris che invece viene usata allo stesso modo nel Nuovo Testamento sono due concetti che si fondono e che ci presentano un Dio che è disposto a darci qualcosa che noi non meritiamo qualcosa che non ci spetta che non ci è dovuta ma che ci viene largita comunque per amore per il favore che Dio ha verso il suo popolo e allora adesso abbiamo una maggiore chiarezza del perché gli autori biblici parlino così tanto di questo aspetto del carattere di Dio in tutta la Bibbia io adesso vi ho citato qualche esempio ma se andate a cercare queste parole troverete la Bibbia piena quando le persone sono disposte ad ammettere i propri fallimenti e chiedere a Dio la sua grazia egli risponde in modo coerente e generosa Dio ha fatto dono di se stesso della sua vita e del suo amore ecco che cosa significa quando Dio al popolo e a Mosè si presenta come il Dio pietoso o il Dio pieno di grazia che possa essere anche nella nostra vita la realizzazione di questa grazia di Dio che anche noi possiamo fare appello a questo dono immeritato che comunque Dio ci elargisce per amore facciamolo nostro afferriamolo aggrappiamoci a queste sue promesse e facciamo e facciamo sì che un giorno questo grande sacrificio che Gesù ha fatto possa essere stato valso anche per noi Amen Preghiamo Padre Padre nostro che sei nell'alto dei cieli ti ringraziamo Signore per l'opportunità che abbiamo ancora oggi di essere qui nella tua casa ti ringraziamo perché sei un Dio misericordioso pieno di grazia di pietà e perché ogni giorno rinnovi verso di noi le tue promesse ti vogliamo ringraziare per l'immenso amore e l'immenso sacrificio di Gesù perché grazie ad esso abbiamo ancora opportunità di presentarci di fronte al trono di grazia per poter chiedere misericordia e appunto per ricevere questo dono immeritato che comunque tu ci stai offrendo lo stesso aiutaci Signore ad essere partecipi di questo piano di salvezza che questa possa essere efficace per noi che possiamo prendere e aggrapparci alle tue promesse fiduciosi e speranzosi nel tuo nome aiutaci ad essere a nostra volta una testimonianza a dimostrare anche noi questa grazia al perdono e la misericordia che ti contraddistinguono così che il mondo possa vedere in noi questa differenza e così che come ha detto anche Mosè la dimostrazione che tu ci accompagni e che sei con noi è perché siamo un popolo differente rispetto a tutti gli altri ti chiediamo Signore che tu possa avere misericordia e grazie anche di quanti sono nel bisogno nella difficoltà o nella malattia voglio a tuo Signore intervenire in questi casi secondo la tua volontà e portare guarigione ristoro e pace negli animi di coloro che te lo chiedono ogni grazia e ogni benedizione te la chiediamo non perché ne abbiamo merito ma nel nome di Gesù Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti